Ciao ragazzi, voglio farvi vedere un pacco anticellulite fatto con tutte le sostanze naturali che abbiamo in casa con il cacao amaro, poi un fondo di caffè che ho messo qua dentro c'è praticamente della moca di caffè fatta, quello che resta all'interno del filtro lo mettete qui dentro, io l'ho messo, un fondo di caffè poi io faccio una piccola variante, ossia per fare un effetto più efficace anticellulite metto anche un pochino di sale grosso e poi metto acqua tiepida e qualche goccia di olio essenziale anticellulite che ho io allora iniziamo mettendo il cacao amaro ovviamente se dovete fare un pacco anticellulite che si presuppone lo facciate sulle gambe e sul fondo schiena, cioè che anche lo mette sui fianchi, quindi anche sulla vita facciamo un po' abbondante, di modo che lo potete mettere un po' dappertutto allora mettiamo quattro cucchiaini di cacao e poi mettiamo il fondo di caffè che ho preparato un fondo di caffè, vedete? se ce l'avete anche due va bene io ne ho messo uno di una macchinetta per per quattro tazzine, quindi per regolarvi e poi mettiamo sale grosso eccolo qua, ho messo qui dentro uno e due cucchiaini allora questo qua lo dobbiamo mischiare con l'acqua calda quindi io metto un pochino d'acqua calda un po' alla volta ovviamente perché sennò poi viene troppo liquido invece deve venire proprio nella consistenza di un fango avete presente i fanghi che si fanno proprio addosso? qui lo deve venire così un fango liscio quindi mettiamo acqua calda un po' alla volta e mischiamo mischiamo, mischiamo, mischiamo fino a quando non deve venire di una consistenza abbastanza densa diciamo però non liquida perché altrimenti poi scivola via quindi vi consiglio di fare in questo modo cioè di non aggiungere direttamente molta acqua ma di fare come sto facendo io cioè un pochino alla volta allora già vi dico che questi fanghi anticellulite hanno realmente effetto quindi sono realmente efficaci perché sono stati provati vi metto anche il link della ricetta iniziale da dove ho preso spunto e molte ragazze si sono trovate bene è davvero un rimedio efficace però bisogna farlo con costanza allora bisogna farlo due volte a settimana anche tre volte se avete la possibilità e tenere questo impacco sulla zona interessata per almeno mezz'ora quindi voi vedete nel frattempo sto continuando ad aggiungere acqua perché è troppo duro quindi voi ve lo spalmate bene bene su tutta la zona interessata dove avete la cellulite la pelle a buccia d'arancia quei piccoli buchetti insomma la pelle che ha perso un po' di tono e lasciate mezz'ora ricoperto dalla pellicola trasparente dopo di che vi sciacquate vi sciacquate bene bene e vedrete che se lo fate con costanza cioè come vi ho detto due volte almeno due volte a settimana e tenerlo 30 minuti addosso vedrete che si hanno realmente dei risultati cioè la pelle risulta più liscia meno non ci sono più i buchetti una diminuzione della circonferenza della gamba quindi realmente sono efficaci e cosa altro aggiungo ancora un pochino d'acqua vedete perché è troppo duro quindi mi raccomando fateli con costanza questi fanghi sono veri e propri fanghi anticellulite perché il cacao ha proprio questa azione sul corpo a questo punto ancora proprio un goccino 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 d'acqua allora a questo punto ho avuto il fango liscio della consistenza che voglio vedete viene proprio tipo come una una cioccolata sciolta in effetti ecco qua cioccolato fuso ecco questa è la consistenza cioè né liquida vedete né troppo densa cioè spalmabile però che non deve scivolare via a questo punto io per dare un ulteriore tocco anticellulite tonificante ci metto qualche goccia di olio essenziale voi potete tranquillamente non metterlo infatti la ricetta iniziale vi dico che poi metterò il link nel box informazioni prevede soltanto acqua calda e cacao amaro quindi ho già fatto la variante di mettere il fondo di caffè e il sale per dare un ulteriore effetto tonificante anticellulite quindi anche gli oli essenziali hanno questa funzione se non le avete tranquillamente ha effetto anche così e sono io che voglio dare un tocco ancora più efficace e metto gli oli essenziali anticellulite che ho io sono cipresso limone e ginipro quindi metto due gocce di ognuno perché ovviamente non voglio esagerare perché non si esagera mai con gli oli essenziali quindi metto due gocce di olio essenziale di limone due gocce di olio essenziale di ginepro e due di cipresso ecco qui ed è pronto è pronto il mio fango anticellulite quindi lo vado a fare con il pennellino si era scaricata la batteria nel frattempo mi sono spalmata tutto questo fango addosso e e quindi niente vi ho già detto 30 minuti lo dovete tenere provatelo perché è realmente efficace e anche senza gli oli essenziali va bene lo stesso ha lo stesso la sua efficacia e poi fatemi sapere come vi siete trovate ciao 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 ciao